Laudetur Jesus Christus, cari amici, teleradioscoltatori e Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi 28 maggio 2022 per il nostro commento del giorno. L'Europa è schizofrenica, ormai su questo non c'è ombra di dubbio e lo vediamo da tutte le paresi e ridicole contraddizioni che si stanno sommando giorno dopo giorno in una contraddizione permanente di dichiarazioni, decisioni, di prese di posizione che smentiscono continuamente quello che è stato detto un'ora prima. Loro sanzionano la Russia, loro non vogliono che la Russia abbia più nessuna possibilità di poter esportare né di poter importare e nello stesso tempo pretendono il gas, pretendono il grano, pretendono materie prime che sono in questo momento indispensabili per evitare il collasso della stessa Unione Europea e dei paesi soprattutto poveri che sono vittime di questa follia europea che si sta abbattendo con conseguenze inimmaginabili sul mondo intero. L'Europa è incapace di stabilire al momento presente un tetto al prezzo del gas perché si è impantanata di fatto su questo embargo del petrolio e anche del gas, è schizofrenica sul pagamento del metano in rubri e Bruxelles riesce comunque a dispensare consigli in questo momento, continuano le farneticazioni così il vicepresidente della Commissione che è questo Franz Timmermans ha parlato della strategia, questa grande strategia europea per uscire dalla crisi energetica che rischia di far precipitare il continente in una recessione senza precedenti e proprio Timmermans ha dichiarato che dobbiamo creare la nostra sovranità energetica, queste continue farneticazioni, all'indomani del crollo economico che sta per abbattersi sull'Europa, bisogna mettere in campo le energie rinnovabili, fare tutto il possibile più velocemente perché questo sia operativo, ma nello stesso tempo si invoca anche l'acquisto del gas, cioè non lo si dice esplicitamente ma poi lo si fa nei fatti, ma la parola d'ordine rimane quella di rendersi indipendenti dalla Russia che è un obiettivo che nel breve periodo comunque è totalmente fuori portata, utopico e lascia solamente sorridere, ma se non piangere. Secondo le ultime previsioni, vedete, il prezzo da pagare per questa guerra oscillerebbe tra i 500 e i 1500 Euro per ogni italiano, mentre per una famiglia varierebbe tra i 1170 e 3600 Euro in un anno, una situazione che sta aggravandosi, abbattendosi sulle famiglie italiane di cui non interessa niente a nessuno perché questi signori tutto hanno in testa, fuorché il bene delle famiglie che sono massacrate come non mai, sottoposti a un regime tirannico che le sta distruggendo progressivamente, ma che non vedono ancora una reazione decisa e forte da parte anche dei nuclei, dei membri delle famiglie che purtroppo sono abituati passivamente a subire e molto, diciamo, percentualmente numeri molto bassi reagiscono e si oppongono, cioè qui è un problema, vedete, proprio di consapevolezza della gravità di quello che stiamo vivendo, perché la cosa più grave è la mancanza di comprensione degli avvenimenti presenti e quindi una perdita anche nel senso della realtà rispetto a una situazione gravissima che viene avanti. E vedete che le sanzioni che al momento sembrano danneggiare più noi che la Russia, la Russia in questo momento, diciamo, vive molto meglio di noi, perché non colpiscono le fonti di finanziamento di Mosca, il petrolio e il gas. Pensate che secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia quest'anno le entrate nel Cremilino derivanti dalla vendita di idrocarburi sono cresciute del 50% rispetto ai primi quattro mesi del 2021. Quindi a essere danneggiate dalle sanzioni occidentali sono, paradossalmente, prima di tutto le imprese europee che sono costrette, o meno, hanno dovuto lasciare la Russia buttate fuori e va detto che per il nostro paese il mercato russo non è certamente di scarsa importanza. Nel 2021 le esportazioni italiane in Russia sono state pari a 7,7 miliardi di Euro, che è l'1,8% del totale. Però vedete che mentre la situazione si aggrava, il costo della vita lievita, le materie prime scarseggiano, la crisi energetica all'orizzonte, i blackout sono ormai annunciati in qualche modo anche dagli stessi governi come la Germania, come l'Austria, che danno già indicazioni ai propri cittadini su come gestire l'emergenza che sta arrivando, con i blackout che si verificheranno improvvisamente da noi, che cosa succede? Che si acquistano armi, si aumentano gli investimenti per fornire armi all'Ucraina e proprio arrivano le cifre del quotidiano britannico, il Day Independent, che parla della corsa all'oro dei fabbricanti europei e americani di armi. Quindi gli impegni economici presi dagli Stati Uniti e dall'Europa stanno movimentando tutto un giro d'affari inimmaginabile. Gli Stati Uniti sono già leader mondiale con il 37% delle armi vendute, secondo i dati del 2016-2020, seguiti subito dopo dalla Russia con il 20%, Francia l'8%, la Germania il 6%, la Cina il 5%. Quindi dopo gli oltre 20 miliardi di dollari che sono stati già stanziati dal congresso americano ad aprile e destinati all'assistenza militare di Kiev, adesso sono stati deliberati recentemente altri 40 miliardi di Euro per attrezzature militari, strumenti e tutto quello che può servire per incrementare, alimentare e mandare avanti una guerra folle. L'Europa, nonostante i programmi pacifisti che continuano, il bandierino arcobaleno e tutte le politiche di sostenibilità ambientali, però rimostra di essere molto interessata, molto attenta a incrementare i guadagni dell'industria bellica e del resto sapete, qui vale sempre quel famoso principio che ricordava Guarischi, qui lo dico e qui lo nego, qui contro ordine compagni, niente gas, sì gas, niente gasolio, sì gasolio, niente grano, sì grano, ma insomma che cosa vogliono, che cosa hanno in testa in questa follia che ogni giorno di più lascia a toni di e senza parole coloro che ancora sono rimasti lucidi e con l'esercizio del lume della ragione. Sanzionano la Russia pretendono il grano, sanzionano la Russia pretendono il gasolio, sanzionano la Russia pretendono il gas, ma insomma cari amici questi sono sintomi di follia totale che fanno solo capire nelle mani di chi è finita l'Unione Europea e nelle mani di chi è finita l'Italia. Noi cari amici dobbiamo assistere a tutto questo con grande senso della realtà, cercando di capire quello che sta accadendo, grande abbandono nelle mani di Dio e della provvidenza di Dio, in una situazione vedete comunque ci toglie l'aria ogni giorno e più, ci toglie le forze, l'ossigeno, ci toglie anche la nostra capacità di reagire adeguatamente perché è uno stilicidio, vedete, in cui non abbiamo sponde sul piano umano. Un tempo esistevano gli organismi cattolici che difendevano la verità, scendevano in campo e erano vicini a coloro che lottavano per difendere la verità, oggi tutto questo non esiste più, oggi tutto questo è finito, ci troviamo veramente soli nelle mani di Dio, ma le mani di Dio, cari amici, sono le uniche mani che possono in qualche modo sostenere coloro che combattono e che vivono per difendere la verità, perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E qui cari amici riscopriamo questa bellissima lettera di San Paolo ai Romani quando dice che il Signore, egli che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica chi li condannerà? E poi, cari amici, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Cari amici, teleradioscoltatori, che belle queste parole, che belle queste parole, chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Nulla, cari amici, se noi resteremo nell'amore di Cristo, cioè se noi resteremo fedeli a Lui, se noi avremo il coraggio, nonostante le crescenti difficoltà, di rimanere eroici testimoni della verità. A tutti voi, cari amici teleradioscoltatori, in augurio di una buona giornata. Laudetur Iesus Christus. Grazie a tutti. Grazie a tutti.